Alessandro Di Meo dell'Olimpia Cedas e Mario Falce dell'Ovidiana Sulmona parteciperanno alla selezione per la rappresentativa regionale Under 17 in programma domani, mercoledì 22 gennaio alle 15, sul sintetico del campo federale Ughetto di Febo di Silvi Marina. I due validi elementi intendono mettersi in evidenza con l'obiettivo di entrare nella squadra allievi che prenderà parte al 59esimo torneo delle regioni dal 24 aprile al 1 maggio in provincia di Bolzano. Alessandro Di Meo attaccante classe 2004 è tornato all'Olimpia Cedas a dicembre dopo l'importante esperienza con i giovanissimi nazionali del Pescara. Mario Falce difensore classe 2003 è passato recentemente dall'Olimpia Cedas all'Ovidiana Sulmona e con la prima squadra di Biancorossi dopo aver fatto l'esordio il 14 dicembre scorso nella gara contro il San Salvo ha già collezionato tre presenze da titolare. Di Meo e Falce domani svolgeranno l'allenamento agli ordini del selezionatore Dario Cantagallo insieme ad altri 26 giovani calciatori.